ascoltami bene se stai pensando di fare il tuo primo viaggio come solo travel ovvero viaggiare da solo questo video fa al caso tuo ti sto per spiegare quali sono i cinque errori più grandi che io ho commesso quando ho iniziato a viaggiare da solo e che tu non devi assolutamente fare e ripetere perché altrimenti rischi di compromettere la tua bellissima vacanza vediamo quali sono non aver paura di esplorare non fare la sociale non aver paura di fare foto e video quindi documentare non spendere soldi inutili attenzione alle cattive amicizie ti faccio una piccola premessa questi consigli che ti sto per dare sono ovviamente frutto della mia esperienza personale solo ed esclusivamente mia altra cosa ti volevo dire in tanti mi avete chiesto di fare video fuori far vedere bangkok perché sono a bangkok qualcuno mi dirà si dice bangkok e io dico bangkok non me ne frega niente ma ragazzi purtroppo siamo ancora in lockdown oggi è il 28 giugno 2021 è tutto chiuso quindi sono ancora a casa bisogna aspettare un pochettino iniziamo dai non aver paura di esplorare ora ti faccio il mio esempio personale la prima volta che ho fatto il viaggio più importante più lungo oltro oceano quello il viaggio tosto quello cazzuto sono andata a new york nel 2016 è stato un viaggio bellissimo sono partito che era un po timoroso della città perché comunque io vengo da un paese dell'abruzzo di 2000 abitanti si chiama cerchio e nella marsica nel cuore verde dell'abruzzo nel parco nazionale d'abruzzo un paese molto bello ma molto piccolo e quindi sono arrivato a new york città gigantesca megalopoli non che non ero stato in altri posti intendiamo avevo già visitato l'europa ero stato a londra copenagra insomma avevo fatto già i miei giri però new york e new york insomma avevo un po di timore soprattutto perché alcuni quartieri come alcuni di brooklyn bronx harlem qualche zona dell'ower east side sono note almeno attraverso i film come zone pericolose dove ci puoi anche lasciare la pelle ma la realtà non è questa new york è una città bellissima troppo bella veramente troppo bella tanto è vero che ci sono poi rimasto cinque anni e ci tornerei anche domani però inizialmente ho avuto questo freno questa paura di esplorare mi sono un po contenuto nella prima settimana perché ero timoroso non ero sicuro anche le persone erano aggressive insomma mi ha fatto fatto mi ha fatto un po strano essere a new york dal mio paesello dell'abruzzo però la cosa più importante che io poi dopo mi sono sbloccato e ho iniziato a girare te l'ho detto ci sono rimasto cinque anni e il consiglio che ti posso dare soprattutto alla tua esperienza di viaggio la prima esperienza da solo travel documentati bene scopri dove stai andando prendi informazioni sulla città sulla nazione sul quartiere dove pensi di abitare perché attraverso queste informazioni riuscirai a capire meglio esattamente che cosa sta per accadere che cosa può succedere intendiamoci altra cosa che ti voglio dire però non farti influenzare negativamente da tutto quello che leggi ascolti e vedi attraverso i video soprattutto di youtube perché c'è tutto il contrario di tutto magari magari qualcuno dirà è ho capito ma bangkok è pericoloso perché mi è successo questo sono stato aggredito si ho capito ma probabilmente tu hai fatto il testa di cavolo e qualcuno ti ha menato te l'ha data di santa ragione oppure a times square mi hanno derubato si ho capito ma bisogna contestualizzare la situazione ecco c'è tutto il contrario di tutto quindi informati fai una bella panoramica di quello che sarà il tuo trip il tuo viaggio tira le conclusioni ma non ti fa rinfluenzare negativamente altrimenti rischi di compromettere la vacanza prima di partire non fare la sociale allora tutte le volte che io ho viaggiato e questo sono io almeno nei primi giorni non importa se sono stato a milano a roma a new york londra tokyo hong kong cambia ben poco la location quello che cambia l'approccio io personalmente quando viaggio e mi trovo in un posto nuovo tendenzialmente nei primi giorni le prime settimane sono un po come ho detto prima un po timoroso sono un po diffidente ecco questo freno a questo freno che è una sorta di protezione proprio per evitare che ho che accada qualcosa alla mia persona magari non succederà nulla però sono un po diffidente e questa diffidenza a volte mi ha portato a non godermi appieno la mia vacanza perché un conto che tu decidi di trasferirti a tokyo o a bangkok o ben cock come voglio chiamarla io e decidi di rimanerci per un anno è ovvio magari il primo mese puoi anche rimanere a casa non succede nulla però se la tua vacanza la tua esperienza di viaggio soprattutto sarà limitata di due settimane mettiamola così tre settimane e passi la metà le prime due settimane i primi dieci giorni un po così facendo la sociale non vuoi incontrare nessuno vuoi non fare non vuoi fare amicizia cerchi solamente gli italiani perché non so ha le tue le tue pippe mentali rischi veramente di rovinare tutto sin dall'inizio quindi il consiglio che ti posso dare fondamentalmente è quello di stabilire gli obiettivi qual è l'obiettivo della tua vacanza che cosa vuoi fare a bangkok o ben cock che cosa vuoi fare vuoi fare un corso di muay thai perfetto allora cerca e trova le persone che sono interessate alla tua stessa che hanno il tuo stesso interesse quindi potrai sicuramente avere un'esperienza di viaggio bellissima ma sin da subito perché quelle persone vogliono e condivideranno il tuo stesso obiettivo vuoi andare a tokyo perché ti piace non so vuoi fare un corso di sushi benissimo fai questo corso di sushi e allo stesso tempo trova quelle stesse persone che vogliono fare il corso di sushi o hanno il tuo stesso interesse ecco il vero problema di andare in un posto nuovo è quello di avere dei punti di riferimento soprattutto perché per te che sei un solo travel e stai viaggiando stai per viaggiare da solo o da sola ed è la prima esperienza hai bisogno di punti di riferimento vuoi sentirti a casa vuoi avere conforto e magari anche bisogno di aiuto e quindi trovare persone simili a te che hanno i tuoi stessi interessi sarà di sicuro la scelta giusta te lo garantisco sono più di 12 anni che viaggio da solo anche di più forse quindi ascolta bene questo consiglio e prendi nota non aver paura di fare foto e video qui ti faccio un esempio personale ancora una volta perché io da sempre ho amato fare foto e video per me la fotografia e il video sono stati il mezzo principale che mi ha permesso di viaggiare attraverso il video e la foto io ho visitato posti bellissimi tipo le Hawaii tipo New York tipo Tokyo Hong Kong Copenhagen Barcellona Londra perché per le foto e per i video sono stato sempre curioso di fare quegli stessi scatti o fare quegli stessi video che fotografi o videomaker più bravi di me hanno fatto prima del sottoscritto per cui mosso da questa passione della fotografia una delle tante passioni che ho e della videografia si può dire non lo so comunque videographer alla fin dei conti ho fatto un sacco di foto e il fare foto mi ha permesso di documentare raccontare la mia storia tante volte mi sono limitato perché avevo paura che non so quella persona quel gruppo di persone quella situazione potesse essere pericoloso oppure potevo mettere in difficoltà e in imbarazzo quel tipo di di gente e quindi non ho fatto tante foto che avrei potuto ad oggi avere quando sono stata la guai ho fatto tante foto ma secondo me non ha una sufficienza perché io quando ci riandrò alla guai bella domanda è questa la domanda che ti devi fare capito ci riandrò sicuramente non so quando ma sono sicuro che tornerò a onolulu perché un posto bellissimo quindi che cosa devi fare fai tante foto più foto possibile e soprattutto se ti piace e sei una persona social mettile su instagram ti piace fare video in questo caso youtube fai un bel video youtube fai tanti video e racconta la tua esperienza di viaggio dove sei stato cosa hai mangiato che cosa consigli che cosa sconsigli ricorda che come io sto facendo oggi con te questo video ti sto consigliando che cosa fare nel tuo prossimo viaggio che prevedi rifare da solo o da sola questi consigli che io ti do sono frutto della mia esperienza e tu probabilmente ne farai tesoro perché stai guardando il mio video youtube io adesso sto registrando e ti sto spiegando questa cosa capito hai capito quanto è importante fare video e a tal proposito se ti piace magari vorresti fare iniziare a fare video ho creato una guida bellissima che puoi scaricare gratuitamente trovi il link nella descrizione dove ti spiego come fare video perché fare video sia per passione sia che tu sia un professionista e vuoi non so promuovere la tua attività da trainer o cuoco chef quello che sia non ha importanza scarica questa guida perché è gratis e tra l'altro fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti sono molto molto curioso non spendere soldi inutilmente ecco questo è un problema che ho da sempre a me piace spendere soldi o quantomeno mi piace spendere i soldi per quelle cose che amo intendiamoci non è che li butto o li brucio il mio grande problema è sempre stato uno le sneakers le scarpe da ginnastica sono amante delle scarpe da ne ho tantissimi modelli ogni posto dove sono stato ha comprato sneakers il primo giorno che sono arrivato a new york ho comprato le sneakers da flight club uno dei negozi più belli di new york dove posso comprare le scarpe sono amante di levis vintage e tokyo è stata la mia rovina ho comprato tanti levis vintage anche molto costosi ma è la mia è la mia passione tanti dei miei viaggi che ho fatto oltre per le foto per i video li ho fatti per abbigliamento al sono andato sempre alla ricerca di trend e tendenze perché lavorare nell'abbigliamento è stata è stata una delle esperienze della mia vita lavorativa per cui fatto questo per lavoro ma soprattutto e anche per passione è una passione che poi è diventato lavoro quindi è un gioco di parole ma fondamentalmente è così che ti posso dire se tu stai viaggiando e hai un budget a disposizione piccolo grande che sia consiglio che ti posso dare innanzitutto prenota gli spostamenti prima che parti o quantomeno quelli più importanti così sei sicuro che quel budget ce l'hai boom le hai acquistati se vuoi visitare musei gallerie d'arte a qualunque cosa vuoi fare vuoi fare un corso d'inglese vuoi fare un corso di quello che vuoi benissimo fai quello che ti pare e prenota in anticipo altra cosa lascia la carta di credito a casa perché con la carta è facile fare lo swipe acquistare o che belle scarpe le compro bam 200 euro e poi te ne penti cioè te ne penti insomma dici caspita potevo risparmiarmi le seconda cosa porta con te solamente i soldi necessari per la giornata basta ti serve ben poco da spendere eventualmente per un giorno 50 euro 100 euro insomma quello che puoi te li porti e spendi quelli finito facendo questo tipo di di cosa questo approccio questo schedule sicuramente riuscire a gestire meglio il budget il budget è importante sia per te che hai poco budget a disposizione ma anche per te che magari sei un milionario e cioè discorso di spendere soldi non è tanto spendere ma è spenderli bene tutto qua io personalmente ho speso tanti soldi per delle cose apparentemente inutili che poi per me non sono inutili e così poi li avrei potuti spendere per fare altre cose magari per fare altri viaggi per fare un corso d'inglese oggi avrei parlato un inglese accademico non l'ho fatto ho fatto altre cose ma questa è la mia vita ed è per questo che ti sto consigliando che cosa devi fare da solo travel attenzione alle amicizie pericolose allora io personalmente non ho mai avuto esperienze pericolose intendiamoci mi andrà sempre bene devo dire però che tante persone che ho conosciuto in questi anni che viaggio tra le tante persone qualcuno poi si è rivelato un criminale qualcuno è finito in carcere qualcuno è stato anche ucciso purtroppo è questa la realtà dei fatti non sai che incontri non sai quella persona che ti invita ad andare a cena oppure a iniziare un business sul lavoro comunque a fare andiamo andiamo in vacanza insieme facciamo questo weekend insieme tu non sai chi è di fronte e il problema è abbastanza semplice per quale motivo perché se tu viaggi da solo che di che cosa hai bisogno ha bisogno di fare amicizia perché non puoi fare una vacanza interamente da solo altrimenti stai a casa c'è chi fa questo ma io personalmente lo sconsiglio perché lo scopo di vedere solo è quello di conoscere gente e godersi un'esperienza autentica anche e soprattutto conoscendo persone locali però bisogna stare sempre attenti io personalmente metto sempre un filtro quando arrivo in un posto nuovo ed è quel filtro che ti ho detto prima che tante volte mi limita però in un certo qual modo mi protegge perché perché bisogna stare attenti ragazzi bisogna stare attenti soprattutto una cosa se a pelle senti con la situazione quella persona non ti piace lascia perdere se pensi che devi rifiutare una situazione perché qualcuno dice ok questa sera andiamo a mangiare fuori tu puoi sempre dire anziché dire sì o no dice ok fammi ci pensare poi ti chiamo ti mando un messaggio devi essere sveglio devi farti vedere come una persona sicura quando viaggi da solo devi essere sicuro di quello che fai e soprattutto a di chi sei ok è la cosa più importante detto ciò non devi assolutamente limitare le tue amicizie detto ciò non devi assolutamente avere paura di incontrare gente nuova ha detto ciò devi soprattutto soprattutto a fare amicizia con le persone che hanno i tuoi stessi interessi e con le persone che a pelle o quantomeno dopo aver fatto delle piccole indagini domande insomma fai come di pari io normalmente faccio tante domande ti sembrano persone delle quali ti puoi fidare non al cento per cento al 90 per cento ma è questo quello che devi fare tutto qua il motivo per cui ho fatto questo video è perché tanti di voi probabilmente hanno paura di fare il primo viaggio da solo ed è uno sbaglio perché viaggiare da soli ti permette di avere un'altra visione del viaggio ti permette di conoscere gente che in gruppo non conoscere mai tante persone decino di farsi di fare le vacanze in di gruppo o di scegliere i compagni sbagliati di viaggio proprio perché non vogliono viaggiare da soli ed è un grande errore te lo garantisco pertanto io ti spingo a viaggiare da solo se quello che senti informati bene porta la macchina fotografica con te il telefono la videocamera fai tanti video carica tanti video scarica la guida così mi fa vedere che video hai fatto ok perché magari potresti iniziare a fare un viaggio perché sei un amante del caffè vai in colombia costa rica guatemala e inizia a scoprire il caffè inizia a fare delle belle foto dei video il tuo canale è sul caffè e un giorno il tuo canale diventerà vero e proprio business perché da quella passione che avevi per il viaggio in sud america e per il caffè tirato fuori un bel business ti permetterà di fare tanti soldi che riuscirai non so fare quello che ti pare anche grazie attraverso il video intendiamoci tutto qua ragazzi chiudo io mi raccomando seguitemi un commentino scrivimi quello che ti pare le tue impressioni le tue opinioni un like se questo video ti piace vado a pranzo che è mezzogiorno grazie ci sentiamo presto ciao